Alla sale del Grechetto, Biblioteca Sormani, Milano, divertente presentazione di Il faccio da spettacolo, ultimo libro di Roberto Brivio, scritto in collaborazione con Andrea Alcona e con Bruno Prosdocimi, il famoso caricaturista di Candido, quindi cinalo umoristico creato da Giovanni Guareschi. Bruno Prosdocimi, assieme alla giornalista Adele Ferrari, detta Biri, ha avvicinato centinaia di personaggi dello spettacolo, dello sport, della politica, creando con gli attori i famosi cartelloni di commedie rappresentate nei teatri milanesi, comprendenti l'intero cast. Roberto Brivio e Andrea Alcona hanno descritto in un escursus cronologico ricordi e fatti dal 60 al 90 con chiara ironia ai giorni nostri, serata conclusa felicemente da Bruno Prosdocimi che ha regalato caricature agli astanti. Grazie.